Sono migranti, uomini e donne comuni inseriti nella società napoletana i monumenti di Liu Jianhua, uno dei massimi artisti cinesi. Le sue opere sono alla Biennale e alla Tate Gallery di Londra, che ha inaugurato a Napoli, nel chiostro della fondazione Made in Cluster in piazza De Nicola, un'installazione dal notevole impatto visivo. 24 statue dorate disposte a scacchiera al centro del colonnato del steicentesco chiostro di Santa Caterina Formiello, che rappresentano altrettanti migranti che vivono nella zona di Porta Capuana e conosciuti durante un soggiorno napoletano dell'artista, Davide De Blasio della fondazione Made in Cluster. L'artista è uno dei più importanti artisti contemporanei cinesi ed è stato invitato da noi a Napoli all'inizio di quest'anno per conoscere il territorio, per immaginarsi un progetto che da un lato avesse la caratteristica del coinvolgimento, come dicevo prima, degli artigiani locali e dall'altro di parlare alla sua maniera di un tema che lui avrebbe potuto identificare, poiché nell'area di Porta Capuana quello che lo ha occupito molto è stata proprio la presenza di tante etnie e quindi la vocazione di questo territorio, di questo quartiere all'accoglienza e all'ospitalità, lui ha studiato un progetto su questo tema.